Mancano solo 5 giorni alla fine del mese di settembre, che è da sempre uno dei mesi peggiori di Bitcoin, della storia di Bitcoin. Questa volta però non è andata male. Abbiamo infatti un mese di settembre positivo, che se resterà in questo modo, mancano ancora 5 giorni, come vi dicevo, sarà praticamente il miglior mese di sempre da quando questa statistica viene calcolata, cioè dal 2013. Incredibile, ma la notizia più incredibile di oggi è che Plan B è tornato e soprattutto la spara grossa, anzi grossissima, perché va a delineare uno scenario che ci porta fino addirittura al 2027, disegnando quello che è secondo lui il market cycle di Bitcoin attuale con la fase della bull run, che manca appunto, e che nella quale siamo già entrati, anche secondo chiaramente Plan B, ma insomma di questo ovviamente ne abbiamo già parlato, però manca la parte finale della spinta, quindi va a delineare uno scenario pazzesco, sbalorditivo, che si basa anche su quelle che sono le questioni legate alla politica americana, e cioè all'esito delle elezioni degli Stati Uniti. Questo scenario è realistico, andiamolo a vedere insieme nel video di oggi, perché è interessantissimo e soprattutto è una cosa abbastanza, diciamo, più leggera, però cerchiamo di capire se effettivamente una cosa del genere può essere realistica, quantomeno a livello di immaginazione, sempre uno scenario resta, però andiamo a ragionare su questa cosa, va bene ragazzi? Allora ragazzi, scusate, è andato via l'audio, iniziamo con l'analisi di quella che è la questione del mese di settembre, guardate il grafico di natura settimanale dove è arrivato, questa è la settimana che in pratica va a concludere settembre, mancherebbe poi la giornata del lunedì, è una candela di riflessione del mercato, ma ci sta perché siamo anche sotto un livello dinamico molto importante, che coincide anche con un livello statico molto importante, cioè il livello di resistenza che cambia completamente le sorti di questo minimo, dichiarandolo in pratica all'inizio di un nuovo ciclo annuale di Bitcoin e quindi dando la possibilità a Bitcoin di avere tanto, ancora tanto tempo per poter aggiornare i nuovi massimi storici. In sostanza è la soluzione migliore un po' a tutto, è proprio quella di assistere ad un'attesa entro i prossimi 4-5 giorni e poi il tentativo di breakout nel mese di ottobre che per molti è definito up-ottobre perché in realtà è il mese migliore, è uno dei mesi migliori di Bitcoin insieme a novembre e quindi la parte del quarter numero 4 dell'anno che poi spinge di solito veramente tantissimo, l'aveva fatto anche l'anno scorso comunque ragazzi, quindi a livello di serie storiche nulla di strano, ottobre e novembre i mesi migliori anche se a dire la verità è ottobre a me piace più di novembre perché in realtà il mese di novembre ha una media maggiore ma dettata soprattutto dall'enorme balzo del 2013 che in questo caso diciamo viene un po' meno secondo me come tipologia di estensione perché intanto è troppo lontano e poi Bitcoin aveva prezzi essenzialmente diversi da quelli attuali mentre ottobre anche negli ultimi anni ha performato decisamente meglio anche di novembre e quindi potrebbe in effetti essere un mese di rompente. In questo caso quindi riflessione fino alla fine di questa settimana, dal lunedì inizia la nuova settimana e martedì e mercoledì inizia l'app ottobre, sarà così, lo vedremo ovviamente e ne parleremo anche sul canale. Ragazzi allora scenario di plan B, la questione legata a plan B è che lui delinea la vittoria di Trump e con la vittoria di Trump in pratica l'inizio di una nuova fase incredibile di spinta di Bitcoin e Bitcoin lo porta secondo lui ovviamente ragazzi fino ad una FOMO incredibile ad un milione di dollari ok la spara grossa anzi no grossissima poi però un po' ritratta perché a dire la verità dopo un tot di ore scrive not a prediction, not a call, not an expectation of the target, some people forgot to read just a scenario perché in realtà lui lo scrive qui su just a scenario però ragazzi ovviamente molti quelli che hanno letto questi numeri hanno parlato della previsione di... lo capisco perché anche quando noi facciamo chiaramente diversi scenari è molto più semplice per le persone ragionare in termini di... ha fatto una previsione piuttosto che uno scenario per questo insomma lo capisco però poi alla fine lo ritrattano, fa il ritrattatore dice no, è just il scenario allora October classic pump di Bitcoin del mese è arrivo a 70.000 dollari allora questa cosa è assolutamente plausibile, non c'è un battito di ciglio cioè nel momento in cui andiamo a fare anzi un'altra cosa andiamo a vedere non il grafico settimanale bensì vediamo addirittura il grafico di natura mensile ed è assolutamente normale che Bitcoin possa fare una cosa del genere intanto si tratta di un... più o meno un 10% dai prezzi attuali quindi niente di... trascendentale per quanto riguarda Bitcoin e tra le altre cose si sposa alla perfezione con tutto quello che abbiamo detto questo è il mese di settembre quindi un ottobre che vada a breccare questo livello si riporti sui livelli dei 70.000 dollari che essenzialmente sono ai massimi storici niente di anomalo, è assolutamente realistico quindi plan B su prima ipotesi è molto più realista novembre vittorie di Trump alle elezioni e la fine dei democratici plan B è molto avverso ovviamente ai democratici perché essendo anche un cripto investitore molto legato ovviamente si sa che nell'epoca di Biden la questione legata alle criptovalute è stata fortemente osteggiata negli Stati Uniti e molti hanno criticato che questo atteggiamento tra le altre cose è uscito proprio oggi la notizia di un membro della SEC che criticava Gary Gessler indicando che ha portato indietro il paese e gli Stati Uniti rispetto a un argomento importante per loro e insomma lo criticava in maniera veramente molto aspra infatti anche plan B parla appunto alla fine di Biden, di Harris, Warren e di Gessler e della guerra contro le cripto e da novembre bitcoin jump to 100k perché secondo lui la vittoria di Trump porterebbe bitcoin a 100k andiamo a vedere ancora una volta se è realistica questa cosa da fare in due mesi questo è il mese di ottobre secondo plan B andiamo in pratica a disegnare dei rettangolini così li vediamo meglio secondo plan B arriviamo in pratica a ottobre su questa zona cosa che io ritengo assolutamente plausibile e poi da novembre vince Trump brecchiamo i massimi storici e facciamo un balzo direttamente a questa zona cioè intorno ai 100k cioè un balzo importante ma ancora una volta ragazzi non impossibile perché? perché in realtà non è un rialzo così abnorme soprattutto se parte una bull run e arrivo ai 100k di bitcoin non è una cosa strana anzi è una cosa quasi normale qui parleremo di un altro 38% 40% dai massimi scorsi più o meno cioè una oscillazione che all'interno di un mese come può essere quello di novembre ci sta visto che ha una media di 46% anche se eliminiamo questo comunque nei mesi positivi e del bull run ad esempio nel 2020 ha fatto più 42% certo avevamo prezzi diversi ora un 40% non è cosa da niente da questi prezzi su bitcoin però è gestibile quindi realistica assolutamente realistica poi ovviamente è uno scenario come dice lui bisognerebbe vedere gli fanno anche la domanda se invece vince la Harris cosa succede poi lo vediamo dopo allora dicembre massive etf inflow bitcoin a 150k quindi secondo lui continua questa questione anche a dicembre che ha tutt'altro che una media positiva del 50% perché per arrivare a 150k noi dobbiamo avere un dicembre molto positivo praticamente il miglior dicembre di sempre di bitcoin in quanto andremmo a delineare un rialzo da 100.000 dollari a 150k che sono circa in pratica il 50% quindi è un rialzo notevole non è cosa da niente e in questo caso la realisticità diciamo così di quello che è stato abbiamo visto prima incomincia a diventare fantascienza perché qui dovremmo avere un altro rialzo del 50% nel mese di dicembre non c'è mai stato un mese così se non quello del 2020 ci può essere può starci ragazzi sì ancora siamo nelle ipotesi non della fantascienza pura perché comunque è vero qui abbiamo fatto 38-40% in generale il mese di dicembre non è fa un rally di natale però non è così positivo per bitcoin però potrebbe insomma spingere a questi livelli anche a livello grafico non abbiamo un livello così esagerato quindi realistico ancora siamo nell'ipotesi dell'essere realistico però iniziamo diciamo a scricchiolare gennaio crypto people companies return to return to US cioè ritornano le compagnie crypto negli Stati Uniti vi ricordo che dall'avvento di Biden è successo un cataclisma molti exchange hanno dovuto chiudere ricordate quello che è successo anche a Binance con tutta la questione moltissime delle compagnie americane nell'ambito crypto sono state bloccate in tutti i modi quindi il mercato è stato spento palesemente dall'avvento di Biden e quindi in sostanza questa cosa è vera perché se c'è un'apertura nuova con per esempio Trump che vince le elezioni sul settore delle crypto probabilmente molte aziende ritorneranno negli Stati Uniti ad operare al 100% però questo secondo lui altri 50k su Bitcoin a parte che va a step di 50k 50k alla volta non capisco perché plan B ti piacciono i numeri pari vabbè allora detto questo secondo lui 50k qui entriamo poi nella fantascienza perché in sostanza è vero ancora una volta è possibile in termini di estensione non è neanche tantissimo perché partendo da 50k abbiamo un più 34% andiamo a vedere a gennaio è infattibile una cosa del genere però lui in pratica non delinea mai un mese rosso perché fa verde ottobre verde novembre verde dicembre verde gennaio quarto mese di fila insomma Bitcoin mi pare che nella sua storia ne abbia fatti se non erro massimo 5 che sono questi nel 2017 non mi pare che ne abbia fatti altri ecco sempre qui sono tutti spezzati sì ragazzi in linea di massimo adesso non ricordo bene però se sbaglio magari di un mese comunque 5 mesi di fila qui le ha già delineati 4 entriamo nella fantascienza secondo me poi che succede ecco qui fa scendere guardate un po' Bitcoin perché anche lui sa che il quinto mese è l'ultimo che Bitcoin va al rialzo che ha fatto come serie storiche magicamente le power low crew sales e BTC scende creano diciamo un ribasso e poi BTC scende a 150 quindi fa muovere nuovamente il grafico a 150 dai 200 nel mese di febbraio in pratica ritorna indietro con una candelina di natura rossa quindi la delineeremo per esempio in questo modo facciamo così ecco secondo i piani di plan B dopodiché che succede che a marzo invece abbiamo un Bitcoin legal tender in Bhutan Argentina e in Dubai cosa che in realtà non è così strana e Bitcoin secondo plan B raddoppia addirittura di prezzo cioè non va ad essere a fare un leggero rialzo ovviamente è un notizione sarebbero insomma rilevanti soprattutto quella dell'Argentina e del Dubai e quello che succede in pratica è una cosa del genere secondo lui il mese migliore in pratica sarebbe quello di di marzo perché andrebbe a delineare questo mega top mega rialzo proprio di Bitcoin con una specie di prezzo raddoppiato ed avviene proprio a marzo andiamo a vedere marzo marzo un mese interessante per le cripto che di solito diciamo è anche positivo ma è uguale a febbraio diciamo che tutti i mesi sono quasi sempre positivi per le cripto però marzo vedete ha più rossi delle cripto quindi un più 100% a marzo non si era mai visto non si è mai visto solo nel 2017 diciamo che forse non ci stava con i numeri allora poi ad aprile Trump negli Stati Uniti costruisce una riserva di Bitcoin strategica per il governo degli Stati Uniti jump a 400.000 dollari andiamo a inserire diciamo quest'altra cartuccia per un altro jump di 4 a 400.000 dollari guardate come si assottigliano i rialzi perché ovviamente a queste cifre abbiamo dei dei rialzi che a livello percentuale ovviamente iniziano ad essere più piccolini dopodiché andiamo a vedere Other Country come eccezioni dell'Europa lui dice iniziano a comprare a creare un rally e saliamo a 500 dollari 500.000 dollari e anche qui il jump c'è ma non è poi rilevantissimo perché vi ripeto nel momento in cui saliamo di 100.000 dollari e siamo già a 500.000 a 400.000 il rialzo è solo esclusivamente del 24% quindi diventa in termini statistici realistico ovviamente però dobbiamo arrivare la giugno several AI starting use bitcoin per creare la threadfi e saliamo a 600.000 dollari ragazzi ok quindi a botte di 100.000 a plan vi piace il numero tondo vabbè ok secondo lui solo botte di 100.000 anche in questo caso andiamo in pratica ad avere un rialzo più o meno intorno al 20% questa in sostanza a parte che abbiamo 1, 2, 3, 4 mesi nuovamente positivi il quinto mese andiamo a giugno qui lo fa ragazzi su più mesi diciamo che facciamo la parte finale della FOMO innescata in pratica da questi rialzi tra luglio e dicembre del 2025 portandoci infine ad un milione di dollari che si innescherebbe in pratica da questo mese qui da luglio agosto fino a dicembre del 2025 e ci porta ad un milione di dollari la corsa al milione di dollari perché poi un milione e non 997.000 oppure un milione e 25 centesimi non lo so perché però gli piace il numero tondo allora una roba del genere più o meno dovremmo esserci ragazzi come rialzo questo è quello che è BNB delinea poi da lì il 2026 l'intero anno distribuzione fino a bitcoin a mezzo milione il bear market il 2027 in sostanza lo stesso ciclo allora dicembre dell'anno giugno dell'anno prossimo luglio fino a dicembre in pratica non si assisterebbe più alla sell in me and go away ma si assisterebbe a un mega un mega jump che comunque in termini percentuali è del 66% finale ovviamente nell'insieme i numeri sono elevatissimi però più si va avanti più in pratica si delinea uno scenario che in termini percentuali è sostenibile ovviamente dobbiamo partire da prezzi molto elevati questo sarebbe secondo lui l'andamento finale di questa bull run target per per plan B intorno al milione follia o meno ragazzi allora abbiamo visto che i primi mesi fino a 100.000 anche 150.000 forse sono anche delle cose sostenibili perché in termini percentuali non è niente di anomalo perché ragazzi dovete immaginarvi che più salgono i prezzi più rialzi di queste levature in termini percentuali diminuiscono perché ovviamente la base è più alta è maggiore però è anche vero che Bitcoin a un milione di dollari avrebbe una capitalizzazione enorme ragazzi facciamo il calcolo andiamo a vedere quant'è la capitalizzazione di Bitcoin fino a un milione di dollari ok ragazzi allora attualmente c'è una circulating supply di circa 19-20 milioni di dollari se Bitcoin arriverà a un milione di dollari avrà 20 trilioni di capitalizzazione in termini di dollaro andando in pratica a superare anche il gold che attualmente ha una market cap dovrebbero essere aggiornati questi dati di circa 18 trilioni di dollari allora ragazzi la questione è molto semplice ovviamente i prezzi in termini di sostenibilità sono sostenibili fino a 150 mila una roba del genere ma poi giù di lì diventa veramente un'ideologia cioè Bitcoin che diventa legal tender gli Stati Uniti che lo accumulano come riserva e poi si innesca ovviamente la FOMO questa ci può stare perché se avvengono due effetti importanti come questo del legal tender in alcuni stati è la strategic BTC reserve degli States allora a quel punto l'innescarsi di una FOMO che spinge Bitcoin a fare un più 50% non è niente di anomalo perché poi i prezzi sarebbero molto alti però ricordiamo che poi andremo a cifre di circulating supply che supereranno l'oro ragazzi quindi questo vediamo se allora tutto è possibile nei mercati finanziari lo sappiamo ragazzi trend is your friend ed è la cosa più importante realisticamente parlando fino a 150.000 dollari quello che dice Plan B è gestibile anche in termini statistici e in termini numerici non c'è niente di anomalo in una cosa del genere mentre tutto ciò che ha descritto dopo c'è molto di anomalo e soprattutto innescherebbe anche un rialzo di questa bull run notevole perché saremmo a un 5.000 6.000 per cento di rialzo dei minimi del 2022 con la precedente fase della bull run per esempio quella della questione pandemica che aveva fatto un 1.800 per cento e cozza molto col discorso che la percentuale di rialzo di bitcoin si va a ridurre per esempio di bull run in bull run come normale che sia perché la base aumenta quindi sostanza sarebbe come delineare lo stesso scenario del 2015 2017 però ai prezzi attuali secondo me questa è una previsione un po' irrealistica ovviamente tutto è possibile però Plan B secondo me l'ha sparata cosa ne pensate voi di questi target io vi ho detto la mia abbiamo analizzato passo per passo mettete mi piace e like su questo video ragazzi così mi date una mano e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti di